La mia grande personalità... Ok, qui ha finito. Mi Trent piace ancora, è in molto. Mi è sempre piaciuto. Provo un forte sentimento d'affetto per tutti voi. E per qualcun altro? Duncan, per esempio. Lesciana, una ragazza fantastica, grande amica e DJ. Avete mai provato il suo pasticcio alle pesche? Ottimo! Che dolce! Grazie! Cerca di non farti eliminare! Red, sollevalo un poco dal tuo lato. Ora, Krabby, sollevalo dal tuo. No, volevo dire in basso! No, no, più in alto! 18, 19, 20... Ti ho trovato, Bart! Ralf, stiamo giocando a dama. Non mi piaci, ragazzo madre! Non mi piaci, ragazzo madre! Svi 1 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti